Le previsioni meteo per mercoledì 4 settembre di Globus Television, mercoledì, pressione stabile sulla nostra regione, giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime fino a 36 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni, temperature massime in aumento fino a 35 gradi, minime stabili, mari, marionio poco mosso, martirreno poco mosso, stretto di Sicilia mosso.